Gravissimo incidente a Rieti tra quattro autovetture lungo la salaria. Purtroppo ci sono persone decedute, due morti, un uomo e una donna e ci sono anche due feriti, una ragazza di 15 anni e un uomo di 59 anni. Uno dei feriti è stato trasportato in eleambulanza al Policlinico Gemelli. Nel tratto dove è accaduto al sinistro piove intensamente, la strada è particolarmente viscida. I nomi delle vittime sono Mauro Fabrizi e Lidia Santini. Secondo una prima sommaria ricostruzione in un tratto veloce, in leggera semicurva, due auto si sono urtate con lo spigolo anteriore sinistro. Lo scontro ha poi coinvolto altri due mezzi.